Il consorzio Pesaro Basket cresce ancora e accoglie una nuova azienda che ha deciso di supportare la società biancorossa. Si tratta di BRX, azienda leader nella produzione di banchi per bar, pasticcerie e gelaterie. Il gruppo di circa 60 persone con un fatturato di 10 milioni ha deciso di sostenere questa realtà sportiva della pallacanestro pesarese. Sì, ho deciso di entrare in consorzio perché comunque il basket è lo sport che preferisco, che ho praticato da giovane. Comunque la VL è una società importante, storica, seria e quindi abbiamo deciso di dare il nostro contributo alla squadra più importante della nostra città. Nella sala rossa del comune di Pesaro è intervenuto anche il presidente della società sportiva, che ha rimarcato la fiducia dell'azienda ad investire sullo sport e a sostegno anche delle attività giovanili. Siamo ben felici di questo, speriamo di trovare sia per noi che per loro la giusta soddisfazione di questo nuovo arrivo all'interno di Casa VL. Il brand che oggi rappresenta l'asset più importante per un'azienda sarà stampato sul coprimaglia della squadra. Il brand che oggi rappresenta l'azienda sarà stampato sul coprimaglia della squadra. Il brand che oggi rappresenta l'azienda sarà stampato sul coprimaglia della squadra.